Ben ritrovati a voi tutti cari amici del vostro Nicola De Lucebene, è terminato il posticipo del campionato di Serie A1 Primavera, calcio maschile giornata numero 18 tra Torino e Genova, le due formazioni hanno pareggiato risultato ad occhiali 0-0, pareggio offerto dai bookmaker a 3.65 e 3.50, in classifica al momento Genova rimane nel treno per ottenere un post al sole nel playoff, settima posizione con 25 punti, nelle ultime 5 partite per il Genova sono arrivate 3 sconvitti, una vittoria, un pareggio, il Torino invece 11 a quota 22 punti, anche per il Torino più o meno stesso andamento però 22 punti. Torino che giocherà il 16 febbraio in casa della Fiorentina 13 a quota 18 punti, mentre il Genova ritornerà in casa il 16 febbraio sfidando il Chievo che occupa l'ultima posizione è la sedicesima che vuol dire retrocessione diretta a quota 12 punti. Bene, ricapitoliamo, Torino under 19 contro Genova under 19 0-0, ciao!